Ciao a tutti, oggi prepariamo un liquido di bambini. Ora la seasona è un po' di piazza, quindi non puoi trovare molti di bambini, ma troverete sufficiente per fare il liquido, non per fare il gel di bambini. Bisogna riempire un po' di 500 ml, quindi quando è riempito, dovete andare a casa, cuocerirli e aspettare che si diventino secchi e mettere dentro il po' con l'alcol, ma vi mostrerò dopo. Ora dovremmo prendere la frutta, come questo. Io prendo o prendo 300 g di bambini, bambini. Questo è quello che bisogna. Non preoccupare, ho già usato e li secco. Questo è il progetto che ho usato e li secco. Ora, dentro, metteremo 300 ml di alcol, a 95% di alcol, e dopo, con la spoon, ci saranno sbagliare i bambini e cerchiamo con il gel. Dobbiamo mantenere dentro con l'alcol per una settimana. So, see you next week. Bye bye. Ciao. 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 Dopo 15 giorni possiamo completare il nostro liquido, ora abbiamo filtrato i nostri bambini e lo mettiamo insieme con il sarro che ora faremo. Per ricordare tutti gli ingredienti necessitiamo 300 grammi di bambini, 300 ml di alcol, 95% di alcol, 150 ml di acqua e 200 grammi di zucchero. Quindi non venite qui perché abbiamo preparato il sarro e dopo abbiamo filtrato il nostro liquido per mettere tutto insieme. Il nostro sarro è pronto, ora torniamo l'acqua e aspettiamo che il sarro sia caldo. Nel tempo possiamo filtrare i nostri bambini. No. Siamo quando rosso il sale, lascia si carruzano a tarmi. No. No. Von pietra. Vembo. No. Vembo. 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 ora lo mettiamo nel riferimento e quando sarà molto caldo lo testeremo See you later! It's very very good! You can feel you can taste the blackberries! Ok guys till next time remember to subscribe to the channel to leave a like it and to watch the other video! be careful to not exaggerate because it's always alcohol